Partiti a Pordenone i lavori per la grande pista ciclabile dei parchi. Il percorso attraverserà strade e aree naturalistiche della città, collegando i parchi San Valentino, San Carlo e del Seminario. La ciclo pedonale sarà terminata in autunno. L'investimento complessivo è 405 mila euro, finanziati dai fondi europei PISUS. Quattro i cantieri che si alterneranno in diverse zone, a cominciare da quello già aperto in Via del Maglio. Il primo riguarda Via del Maglio, con delle opere molto semplici di risistemazione della strada, e poi in Via Beata a domicilia, di fronte al Beato Dorico. Anche in questo caso si tratta di opere di connessione tra viabilità già esistenti. La parte principale del cantiere che sarà svolta durante l'estate riguarda invece il tratto che tra il dago di San Carlo collega Via alle Libertà. Un tratto molto bello, lungo le due sponde della roggia vallona, ed interesserà la parte del cantiere più importante. Poi ci spostiamo come ultimo tratto nella zona del Maglio, la Ghetto Tomadini, e il tratto collegherà Via Beata a domicilia con Via del Maglio. L'opera si inserisce nel piano dei lavori pubblici promosso dal Comune. Quest'opera segna la prosecuzione della stagione dei cantieri avviata poco tempo fa, che troverà il suo apice tra il 2019 e il 2020, con tantissimi cantieri e tantissime opere che miglioreranno la qualità della città. In questo caso parliamo di un'opera, tra le tante che verranno realizzate, che unirà sostanzialmente i luoghi più suggestivi di Pordenone. Questo consentirà ai pordenonesi, ma non solo loro, di poter godere delle bellezze naturalistiche di questa città, ma consentirà anche a chi vola recarsi al lavoro, in bicicletto o a piedi, di poterlo fare più comodamente e attraversando zone assolutamente belle. Grazie a tutti.